In questo video parleremo di Adobe Color. Adobe Color è un'app che possiamo utilizzare direttamente sul nostro browser web, quindi non dobbiamo scaricare e installare nulla, che ha all'interno delle interessanti funzioni per quanto riguarda il colore. Possiamo infatti creare dei temi utilizzando i colori, possiamo conoscere un po' meglio anche il modo in cui lavorano i colori in un ambiente digitale, possiamo anche estrarre dei colori da un'immagine oppure applicare dei colori in una grafica vettoriale. Quindi è uno strumento che comunque offre una serie di funzioni perlomeno interessanti. Possiamo accedere a questo strumento semplicemente facendo una ricerca su Google, Adobe Color, e quindi cliccando sul primo risultato, oppure possiamo accedere direttamente tramite il nostro Creative Cloud utilizzando il nostro account che stiamo utilizzando appunto in Adobe. Andando qui nelle app posso cercare Color, oppure basta scorrere in basso nel pannello delle app a disposizione, di solito si trova nella parte più bassa, ed eccolo qui, Adobe Color. Quindi è sufficiente cliccare su apri e accedere, oppure come abbiamo visto precedentemente andare direttamente tramite la ricerca Google, quindi molto semplice trovarlo e accedere. Andiamo a vedere velocemente come funziona, perché comunque è un'applicazione molto semplice da capire e da gestire. Innanzitutto vedete che qui ho una sorta di grappolo di colori. Qui se inizio appunto, come vedete, in alto a sinistra, abbiamo armonia dei colori analoghi e poi abbiamo un metodo di colore RGB. Qui possiamo modificare quindi da Red, Green e Blue a HSB, quindi Hue Saturation e Brightness, oppure Lab. Quindi sono diversi selettori di colore, diciamo così. Diciamo la cosa più importante è l'armonia del colore. In questo caso sono gli analoghi. Quindi se io mi sposto con il colore principale, vedete che vengono presi più o meno quelli, diciamo, vicini. Inoltre, come vedete, ho monocromatici, quindi che si basano su un solo colore, triade, quindi che vanno, come vedete, in tre direzioni diverse, quindi seguendo, diciamo, una logica, come vedete, completamente diversa da quelli precedenti. Complementari, quindi fondamentalmente il complementare è il colore opposto a quello che stiamo selezionando, quindi se seleziono il blu, il complementare è il giallo, e quindi, come vedete, ci sono dei set di colori molto contrastanti. Split complementari, quadrata, composti, tonalità. Quindi in questo caso cambia solamente, appunto, la gradazione, ma la tonalità è unica. E poi personalizzati. Quindi completamente a caso. Qui possiamo andare nel bianco totale oppure nel nero totale e possiamo riposizionare il colore. Il colore può essere anche modificato direttamente qui in basso, quindi posso cliccare sui parametri e, come vedete, posso accedere ai vari parametri, appunto, RGB, quindi red, green e blu, rosso, verde e blu. Posso anche inserire i valori direttamente all'interno dello slot numerico. Quindi, se vado a mettere 255, che è il massimo valore, e lo metto a tutti i parametri, otterrò il bianco. Se vado invece al contrario, per il nero, vado a ridurre tutto a zero. Quindi posso lavorare con queste barre, con i numeri. Posso anche qui inserire un'etichetta del colore. Proviamo a modificare il metodo di colore in HSB. Vedete che in questo caso cambiano le modalità, quindi luminosità, saturazione e tonalità. Hue, saturation e brightness. E poi lab. Quello che vediamo qui è il codice hexadecimale, quindi io posso copiare con il destro, copiare questo codice, portarlo in un'altra applicazione per utilizzarlo, appunto, per esempio nel web design, un progetto di grafica, o in qualsiasi altro progetto dove, appunto, possiamo lavorare con i colori, per esempio Premiere Pro, After Effects, Photoshop, eccetera. Qui posso rimuovere un campione oppure posso cambiare la tinta direttamente utilizzando questo selettore, diciamo, con delle varie gradazioni di colori più chiari, colori più scuri. Ok, quando ho terminato di costruire il mio set, diciamo, di campioni, quindi il mio tema, qui vedete che ho una rappresentazione, questo tema. Posso andare indietro, avanti, posso vedere anche a schermo intero, posso copiare il codice, posso condividere con altre persone, ok, oppure posso andare a scaricare il file JPEG. Troverò il file JPEG all'interno della cartella di download. Se faccio doppio clic, posso vedere, appunto, la tavolozza dei campioni che posso, appunto, poi importare in un altro programma e utilizzarla anche sotto forma di JPEG. Quindi, questo che abbiamo visto, appunto, è il selettore. Posso anche salvare un tema e chiamarlo, per esempio, JBDPink, ok, e a questo punto posso salvarlo e lo troverò all'interno delle mie librerie. Posso salvarlo in una libreria, diciamo, generica, oppure in alcune librerie che ho già creato utilizzando altri programmi, come per esempio After Effects, piuttosto che Photoshop, eccetera, eccetera. Quindi o lo scarico direttamente o lo salvo all'interno delle librerie e posso recuperarlo anche in un altro momento. Proseguiamo, vediamo Estrai tema. In questo caso posso trascinare o selezionare un file dal computer. Vado a prendere, per esempio, un'immagine che ha dei colori, magari, un po' particolari come questa. Clicco e trascino e, come vedete, posso adesso andare a creare la mia tavolozza o lasciare, diciamo, che questa si crei in automatico oppure guidare anch'io, vedete, la selezione dei colori che mi interessano di più. Una volta fatto questo, posso di nuovo salvare il tema. A questo punto andiamo su Estrai sfumatura. Come vedete, anche da qui posso selezionare alcuni punti dell'immagine e invece di estrarre dei colori estrarre, appunto, delle sfumature di colore. Se voglio, posso anche aggiungere e rimuovere e, aumentando le interruzioni della sfumatura, inserire più informazioni riguardo, appunto, la creazione di questa. Andiamo avanti. Strumenti di accessibilità. Da qui possiamo controllare se i nostri colori, per esempio, di un testo con uno sfondo siano accessibili, quindi siano visibili, ben visibili a chiunque. Come vedete, se io modifico e non crea un elevato contrasto, vedete che mi darà il divieto, cioè vuol dire che non è una combinazione di colori che è accessibile. Quindi posso modificare lo sfondo utilizzando un colore e la parte in primo piano e qui mi fa vedere, appunto, se è corretto oppure no. Vedete, in questo caso mi dice che per dei testi troppo piccoli qui non abbiamo un sufficiente contrasto. possiamo anche importare i colori di nuovo selezionando un file, quindi precedentemente ho utilizzato un'immagine trascinandola, qui fanno a utilizzare il selettore e il mio selettore potrebbe essere la stessa immagine con i campioni selezionati precedentemente e quindi posso verificare se questi possono essere utilizzati o meno e poi modificati. Andiamo avanti e questa volta saliamo qui in alto quindi oltre a creare il nostro colore in un nostro set di colori con il selettore posso anche esplorare e andare a vedere altri temi creati da altre persone come vedete e quindi posso magari selezionarlo o scaricarlo come jpeg o aggiungere alla libreria. Andiamo avanti qui come vedete posso fare anche una ricerca per tema o per un determinato tag o argomento e vedere appunto la combinazione che più mi piace quindi tendenze questi sono diciamo quelli più utilizzati magari in questo periodo e poi abbiamo Lab che è uno strumento abbastanza recente dove possiamo utilizzare una grafica vettoriale e colorarla con il nostro tema qui come vedete ho cercato all'interno di FreeSvg che è un sito dove ci permette di scaricare dei file grafici anche vettoriali in modo gratuito e sono andato semplicemente a selezionare questa grafica di pubblico dominio quindi clicco su download svg e salvo anche qua all'interno della cartella dei download a questo punto posso ritornare all'interno di Adobe Color e selezionare di nuovo questo file partendo dalla cartella del download aprendo il file e come vedete questa è la colorazione originale a questo punto posso applicare tutte le altre colorazioni che trovo qui sulla destra posso anche scaricare il file una volta modificato posso anche utilizzare i temi che appunto ho salvato nella mia libreria quindi per quanto riguarda questa guida possiamo fermarci qui se vi è piaciuta iscrivetevi al canale e rimanete aggiornati anche su altre funzioni su altri strumenti di Adobe se volete supportarci potete farlo abbonandovi al canale come supporter qui possiamo rivedere le nostre librerie possiamo anche cambiare l'intero tema del programma di selezione del colore e qui abbiamo semplicemente anche un gioco che possiamo fare e abbiamo altri pulsantini secondari come l'aiuto il forum e i commenti ci fermiamo e ci vediamo nella prossima guida grazie a tutti